L'unità di crisi scopre le carte e rende pubbliche le analisi e le valutazioni fatte negli ultimi incontri spiegando il modello matematico attraverso cui la campagna prevede un netto peggioramento della situazione epidemiologica da qui a fine febbraio e individua nelle scuole la principale causa dell'aumento dei contagi e degli ospedalizzati. Si tratta pur sempre di modelli matematici ma sono di fatto gli strumenti che hanno orientato le scelte della regione negli scorsi mesi. Sulle scuole la sensazione è che De Luca non possa più battere i pugni come prima dopo le sentenze del Tar e allora si opta per la soluzione intermedia, chiudere nei territori dove i dati epidemiologici sono preoccupanti. Ma cosa c'è scritto nella relazione dell'unità di crisi diffusa nella giornata di oggi? I dati riportati, si legge, mostrano un andamento in crescendo del numero dei contagi rilevato anche nell'ultima cabina di regia nazionale del 5 febbraio dove si riferisce anche per la prima volta di sette focolai scolastici. Tali dati, aggiornati alla data odierna, denotano un ulteriore significativo aumento del numero assoluto dei contagiati, 9226, nell'arco della settimana che va dal primo al 7 febbraio. Un aumento anche del numero assoluto di focolai attivi, per la precisione 1914, e di nuovi focolai, 1.066. Sempre negli ultimi sette giorni, come detto, si evidenziano 29 focolai scolastici, ma anche due in ambito ospedaliero, uno nelle carceri, uno in istituto religioso. Alla data dell'8 febbraio si rilevano significative criticità relative al tasso di occupazione posti letto. Se le misure di contenimento del Covid-19 resteranno queste attuali, la campagna si troverà nel mese di marzo con una nuova accelerata dei contagi e con un nuovo stress del sistema ospedaliero, conseguente l'aumento di ricoveri in terapia intensiva e in leggenza ordinaria. Una previsione di oltre 254 mila casi di Covid-19 in campagna al 28 febbraio, rispetto ai 223 mila del primo febbraio. E l'allarme è lanciato dall'Unità di Crisi della Regione sul Covid nella relazione emessa, come detto, dopo l'ultima riunione per verificare l'incidenza di contagi scolastici. Alla luce della tendenza dei contagi che attualmente si va delineando, si legge ancora nella relazione all'esito della riapertura delle attività in presenza, nonché dell'incremento di richiesta di posti letto in regime ordinari e soprattutto in terapia intensiva, si ritiene indispensabile l'adozione di nuove strategie di gestione e valutazione dei dati, mediante alert o analisi previsionali sulla base delle quali orientare le decisioni a livello locale e con specifico riferimento alle fasce d'età maggiormente a rischio, per scongiurare l'emissione negli ambienti familiari di studenti e docenti di nuove possibilità di moltiplicazione del virus. Dunque, per la chiusura delle scuole, si deciderà in base a quelli che sono i dati sui contagi nei territori e nelle scuole in maniera particolare. Al momento la fascia più colpita sembra essere quella dei 19-24 anni, ecco perché allora le superiori, ma anche in parte le medie, sono a rischio chiusura. Stando ai dati contenuti infine nel documento redatto dall'unità di crisi della regione Campania, le scuole isolane per il momento sono salve. Si continuerà quindi con la didattica in presenza, seppur almeno per le scuole superiori al 50%, ma i modelli matematici saranno aggiornati nelle prossime settimane e laddove dovessero esserci dei peggioramenti nei dati della situazione epidemiologica potrebbero arrivare anche nuove chiusure.